Valentina Vignali e Francesca Brambilla Valentina Vignali e Francesca Brambilla Alle accuse delle sue ex risponde lui. Stamattina, sotto un post pubblicato da Isa Echia su Instagram, Stefano Laudoni prende chiaramente posizione contro lintervista rilasciata da Francesca Brambilla al blog. La sua ex, in particolare, avrebbe lanciato delle pesanti accuse contro il giocatore di basket, tirando in causa anche la sua antagonista, Valentina Vignali. Di quest'ultima, stando a quanto affermato Francesca, Stefano avrebbe sempre parlato male, tant'è che lei stessa, in primis, è finita col credere completamente al ragazzo. Tutte parole che, tuttavia, Laudoni tiene ad etichettare come non vere e, nel farlo, ribadisce quanto per lui non sia giusto lanciare accuse senza prima sentire la sua versione del fatti. Stefano Laudoni risponde a Francesca Brambilla, quanta falsità. Le affermazioni fatte da Francesca Brambilla non sono state particolarmente apprezzate da Stefano Laudoni. Quest'ultimo, infatti, sulla storia con lei e su quella con Valentina Vignali ha voluto fare delle precisazioni. Sotto il profilo di Isa e Kia infatti lo sportivo ha scritto, Non riuscirei mai ad odiare Valentina perché è la donna più importante della mia vita. Lo stesso, successivamente, ha aggiunto, Avete stufano di giudicare le persone senza sentire entrambe le parti. Dopo aver letto tutta l'intervista Stefano, in un altro commento, ha poi scritto, Quanta falsità. Francesca Brambilla, Stefano e Valentina? Lui la odia a morte. Quando Francesca Brambilla ha iniziato a frequentare Stefano Laudoni, racconta la ragazza a Isa e Kia, la sua preoccupazione maggiore era che il ragazzo non avesse ancora dimenticato la sua ex. Paure però che Francesca ha abbandonato dopo aver sentito più volte l'opinione che Stefano aveva di Valentina. La odia a morte ha affermato nell'intervista ha sempre parlato male di lei. Come reagirà Lavignali adesso? Crederà alle parole di Francesca o darà maggior peso a quelle del suo ex? Probabilmente lo scopriremo presto.